Giovanni, due punti nelle ultime due trasferte, è un buon percorso in ottica salvezza, ma c'è un po' di rammarico? Sì, c'è un po' di rammarico ovviamente perché si punta sempre a fare il meglio possibile, arrivare ai tre punti ogni partita, però a Sant'Arcangelo era una partita ostica perché loro arrivavano da una brutta sconfitta e dovevano per forza fare punti, qualsiasi squadra anche di vertice, secondo me avrebbe fatto fatica, siamo andati in svantaggio due volte e l'abbiamo recuperata. L'ultima partita al primo tempo eravamo in difficoltà perché anche loro era una grandissima squadra, palleggiavano bene, ma abbiamo avuto la forza di rimanere in partita, di rimanere uniti e alla fine, alla prima occasione, siamo riusciti a buttarla dentro e per assurdo rischiavamo anche di vincerla, quindi sono stati due punti positivi, dimostriamo che comunque abbiamo carattere, riusciamo sempre a riprendere la partita e questa è una cosa importante. Appunto, questo è un grande pregio, almeno fino a questo momento del Teramo, ma per certi versi può essere anche un po' in difetto perché bisogna prima prendere uno schiaffo per poi reagire. Sì, può essere una cosa negativa anche perché non sempre si riescono a recuperare le partite, però questo fa capire che siamo un grande gruppo, che stiamo lavorando bene, soprattutto chi entra a partita in corsa molte volte diventa fondamentale e vedi Frattangelo che stava trovando poco spazio in tratto del risultato decisivo sia contro il Sant'Arcangelo che contro l'Albino Leffe, quindi questa è la strada da intraprendere ed è l'unica strada che io conosco, lavoro, sacrificio e allenarsi tutti al massimo. Inizia un mese complicato, se impegni in un mese c'è anche la Coppa Italia, sarà un mese importante in ottica classifica? Sarà un mese importantissimo dove dobbiamo cercare ovviamente di strappare più punti impossibili, c'è anche la Coppa Italia che secondo me è importante soprattutto magari per chi ha trovato meno spazio si può mettere in mostra, può trovare minuti, può trovare continuità, quindi è un mese tosto, dobbiamo concentrare, trovare forze fisiche ma soprattutto mentali. E tu cosa chiedi in più a te stesso? Io chiedo in più a me stesso, posso sempre fare meglio, devo continuare a lavorare al massimo, non mi devo ovviamente accontentare, non ho fatto assolutamente nulla e continuare su questa strada. Su Tirol è una sfida salvezza domenica prossima, fattore campo da sfruttare a pieno? Sì, giochiamo in casa con i nostri tifosi, ci hanno sempre dato una grande mano sia in casa che anche in trasferta, però in casa ovviamente dobbiamo sfruttarlo il più possibile. Sappiamo che è una buonissima squadra ma cercheremo di fare tutto il possibile per cercare di portare via punti.